Allora, completata la pressione, la solituzione successiva che andiamo a vedere è la solituzione di torsione, la solituzione di torsione è caratterizzata dal fatto che sulla base a con L abbiamo che lo sforzo normale è 0, la forza di taglio è 0, il vettore momento flettente è 0, e invece la componente mp, il momento risultante sulla base a L, è una quantità diversa da 0, è la solituzione agente. Quindi noi siamo sostanzialmente in questo caso qui in cui schematicamente, se questa è la nostra trave, la trave è sollecitata da una coppia torcente mt, così, sulla base a con L, è ovviamente opposta sulla base a con 0, va bene? La solituzione di torsione è una solituzione sostanzialmente di questo tipo, se questa è la trave noi stiamo torcendo la trave in questo modo. Ok? Ci siamo? Allora, ricordiamoci un attimino in funzione, naturalmente, delle tensioni che vengono sulla base a con L a quanto valgono appunto lo sforzo normale, le forze di taglio, il momento flettente e così e anche la risultante del momento flettente. Allora, lo sforzo normale che abbiamo detto che deve essere uguale a 0, lo schiamiamo così, è 0 più uguale a n, uguale all'integrale sull'area delle sigma d2 Quindi, la forza di taglio, anche questa abbiamo detto che deve essere 0, è uguale all'integrale sull'area delle componenti di, diciamo così, sigma 1,3 e sigma 2,3 del tensore delle tensioni di A Ok? Ok? Poi il momento flettente, sappiamo bene che questo deve essere anche uguale a 0 sarà uguale al momento flettente, diciamo così, prendiamo come al solito quello ortogonale che è più comodo bene, e questo è uguale all'integrale sull'area di x con 1 sigma 3,3 e meno, no, aspetta, com'era? è meno x con 1 perché abbiamo messo l'ortogonale x con 2 sigma 2,3 ok? abbiamo messo il momento flettente e poi abbiamo qui invece il momento docente, deve essere appunto, immaginiamo se è diverso a 0 e sarà uguale all'integrale sull'area di che cosa? di x con 1 sigma 2,3 meno x con 2 sigma 1,3 quindi, va bene? quindi da un punto di vista, diciamo, delle tensioni la prima cosa che possiamo fare è come al solito fare le solite congetture e cioè pensiamo che la congiuntura iniziale è sempre la stessa cioè che sigma 1,1,1,2,2,2 sia 0 questa è la congiuntura che vale sempre, va bene? quindi immaginiamo che sigma 1,1 sia uguale a sigma 2,2 sia uguale a sigma 1,2 sia uguale a... bene poi, un'altra congiuntura che possiamo fare è questa noi dobbiamo avere che la... l'integrale delle sigma 3,3 cioè la media delle sigma 3,3 è nulla la risultante, la media, come vogliamo ma anche la media pesata per x1 e x2 deve essere 0 allora possiamo pensare che sigma 3 è ugualmente 0 ok per quanto riguarda le sigma 1,3 e 2,3 e ovviamente da una parte abbiamo l'indizio che qua la loro media è nulla cioè la risultante è nulla ma dall'altra parte se fosse nulla non avrebbe neanche il momento torcente quindi non può... queste non possono essere 0 quindi ci dobbiamo aspettare la presenza di sigma 1,3 e sigma 2,3 perché qualora fossero 0 va bene che andiamo a soddisfare questa condizione ma qualora fossero 0 ovviamente dovremmo che anche il momento torcente sarebbe 0 non c'è niente, va bene? quindi è finito tutto quindi ci dobbiamo aspettare invece che le sigma 2,3 e le sigma 1,3 siano delle quantità in generale diverse ok per continuare la nostra analisi cerchiamo di capire da un punto di vista cinematico come possiamo immaginare che si sta deformando questa trave quando è soggetta a torsione allora immaginiamo di stare nella generica sezione di questa trave siamo nella generica sezione della trave e soggetta a questo momento torcente e ci immaginiamo che la generica sezione per effetto della presenza di questo momento torcente subisca una rotazione intorno all'asse x con 3 e possa essere magari una rotazione di tipo proprio veramente rigido che è una rotazione che naturalmente ci immaginiamo possa essere infinitesi ma nell'ambito del fatto che noi abbiamo sempre pensato che le deformazioni gli spostamenti sono sempre infinitesi per cui possiamo pensare che il campo degli spostamenti possa essere scritto in questo modo e cioè u con 1 è uguale a meno x con 2 che moltiplica teta di x con 3 u con 2 uguale a x con 1 che moltiplica teta di x con 3 e u con 3 è uguale a qualche cosa bene, un indizio ce l'abbiamo sulla u con 3 la u con 3, sulla base di quanto abbiamo detto prima la u con 3 ci dobbiamo ricordare che se sigma 1 1, sigma 2 2 e sigma 3 3 sono tutte nulle vuol dire che la epsilon 3 3 è certamente 0 quindi se io prendo questa trave, prendo un filo di questa trave questo filo, ovunque sia naturalmente un filo parallelo all'asse della trave ovunque sia posizionato nell'area della trave questo filo non si deve né allungare né accacciare bisogna avere la epsilon 3 3 quindi, una cosa quindi la sappiamo che la u con 3 non deve dipendere da x con 3 perché la epsilon 3 3, altro non è che la derivata di u con 3 rispetto a x con 3 quindi la u con 3, se è diversa da 0, non deve dipendere da x con 3 ok? Benissimo la prima ipotesi che possiamo fare è di considerare il caso di una sezione particolarmente semplice e cioè il caso della sezione circolare bene, nel caso della sezione circolare c'è un ragionamento più o meno intuitivo che però non vi voglio fare in questo momento che ci fa pensare che effettivamente questa componente u con 3 possiamo prenderla addirittura pari a 0 va bene? noi non lo vogliamo fare in questo momento questo ragionamento intuitivo va bene? lo tralasciamo però facciamo così pensiamo alla sezione circolare e prendiamo come campo di spostamento un campo di spostamento che prevede che u con 3 sia pari esattamente a 0 va bene? poi naturalmente vedremo se riusciamo a soddisfare tutte le equazioni se soddisfiamo di mangiare tutte le equazioni devo dire che quella è soluzione no? va bene? allora io scelgo u con 3 in questo momento uguale a 0 sto pensando alla sezione circolare va bene? questo significa appunto che quella cinematica che dicevo prima in cui la singola sezione subiva una rotazione in realtà qui c'è proprio una rotazione senza deformarsi fuori dal piano va bene? senza avere spostamenti fuori dal piano ok? è una deformazione una rotazione come se fosse perfettamente rigida e basta e questa rotazione rigida è data esattamente da queste due componenti di spostamento guardate che tolgo questa sezione prendo un qualsiasi punto della mia sezione mettiamo che questo sia x va bene? che mi individua il punto generico della sezione eh? guardate queste componenti nel piano della sezione si possono scrivere semplicemente come guardate qua c'è meno x con 2 x con 1 meno x con 2 sarebbe l'x ortogonale esattamente l'x ortogonale quindi è almeno di teta cioè della rotazione che è subito è un vettore nella direzione ortogonale ad x eh? quindi fatto così questo è lo spostamento diciamo la componente di spostamento la parte di spostamento del piano della sezione in realtà poiché u con 3 uguale a 0 è tutto lo spostamento perché siamo nella sezione circolare abbiamo notizzato che u con 3 è 0 quindi lo spostamento viene così che dà esattamente idea del fatto che questa sezione sta rotando in maniera infinitesima naturalmente va bene? c'è un'altra cosa che possiamo già capire più o meno subito che riguarda questa funzione teta di x con 2 teta rappresenta la rotazione va bene? rappresenta la rotazione della sezione e ovviamente noi ci possiamo aspettare che teta dipende dalla sezione certamente da x con 3 cioè dalla sezione che stiamo scegliendo va bene? bene prendiamo due sezioni a distanza unitaria per esempio queste due sezioni pensando che questa distanza sia 1 in qualche modo va bene? o prendiamo altre due sezioni anche queste a distanza unitaria per esempio queste questa distanza è ancora 1 va bene? quello che possiamo pensare è che se prendiamo questo tratto di trave lo vedete questo tratto di trave va bene? e questo tratto di trave ve lo ridisegno qua sotto questo tratto di trave va bene? che sarebbe questo primo tratto di trave che avevo scelto in corrispondenza di questa sezione è soggetta esclusivamente a questo momento torcente e in corrispondenza della sezione diciamo terminale del tratto di trave è soggetto a questo momento torcente che sono naturalmente uguali opposti che si devono fare in video va bene? ovviamente per questo tratto di trave di lunghezza unitaria ci sarà una delta theta che avrà un certo valore diciamolo si d'accordo? cioè delta theta intendo dire la rotazione relativa tra questa sezione e quest'altra sezione quindi di quanto è ruotata questa sezione rispetto a questa? la variazione di rotazione ok? ci siamo? adesso immaginiamo di prendere questo secondo tratto di trave che anche questo ha lunghezza unitaria se lo prendiamo questo secondo tratto di trave ovviamente su questa base sarà soggetto anche questo sempre lo stesso momento torcente e sull'altra base su quella del finale è sempre lo stesso momento torcente cioè non vediamo in realtà nessunissima differenza tra i due tratti di trave né da un punto di vista geometrica né di carico lo trovate? per cui se andiamo anche sul secondo tratto di trave e vogliamo calcolare per questo secondo tratto di trave anche qua il delta theta ci deve dire uguale cioè questo fa pensare che qualsiasi sia il tratto di trave che prendo di lunghezza 1 va bene? qualsiasi sia lo posso prendere come e dove voglio questo tratto di trave questo delta theta deve venire sempre uguale quindi delta theta è costante allora noi abbiamo preso questo tratto di trave con un delta ma questo significa in altri termini che la funzione theta deve essere una funzione lineare perché la sua derivata cioè la differenza tra due sezioni a distanza 1 o in distanza di x con 3 se vogliamo deve essere sempre la stessa quindi significa che theta primo è costante ok? se theta primo è costante può dire che questa funzione theta si può scrivere di x con 3 si può scrivere come x con 3 che moltiplica quello che io sto indicando con theta grande che è questa specie di O con una piccola h e questo theta grande è quello che normalmente si chiama angolo unitario di torsione in definitiva allora vuol dire che il campo degli spostamenti lo possiamo scrivere in questo modo u con 1 è uguale a meno x con 2 per x con 3 per theta grande u con 2 è uguale a meno scusate, è uguale a più x con 1 per x con 3 per theta grande e u con 3 è uguale a 0 va bene, una volta che abbiamo definito il campo degli spostamenti possiamo passare a calcolare le deformazioni allora le deformazioni allora dobbiamo calcolare u con 1 derivato rispetto a 1 che sarebbe l'epsilon 1 1 poi l'epsilon 2 2 cioè u con 2 derivato rispetto a 2 poi l'epsilon 3 3 cioè u con 3 derivato rispetto a 3 poi calcoliamo Il 2 epsilon 1 3 cioè u con 1 derivato spesso a 3 più u con 3 derivato rispetto a 1 2 epsilon 2 3 e cioè u con 2 derivato rispetto a 3 più u con 3 derivato rispetto a 2 ed infine 2 epsilon 1 2 cioè u con 1 derivato rispetto a 2 più u con 2 derivato rispetto a 2 ci siete? va bene, è un conto molto semplice andiamo su u con 1 dobbiamo fare la derivata di u con 1 rispetto a x con 1 ma u con 1 non dipende da x con 1 e quindi è 0 andiamo sulla u con 2 facciamo la derivata di u con 2 rispetto a 2 per calcolare l'episolo 2, 2 e anche questo è 0 l'episolo 3, 3 l'hanno già detto prima ma lo capiamo perché u con 3 è 0 quindi la sua derivata andiamo sulla y1, 3 va bene, due volte y3 quindi dobbiamo fare u con 1 derivato rispetto a 3 e u con 1 derivato rispetto a 3 adesso non è 0 no, no, scusatemi u con 1 derivato rispetto a 3 non è 0 sì, esatto perché viene meno x con 2 per teta ok? e poi dobbiamo fare u con 3 derivato rispetto a 1 ma u con 3 è 0 quindi niente ancora, adesso dobbiamo fare u con 2 derivato rispetto a 3 e u con 2, ecco l'area dell'espressione ovviamente derivato rispetto a 3 non è 0 ma verrà x con 1 per teta e poi u con 3 derivato rispetto a 2 ancora è 0 ed infine u con 1 derivato rispetto a 2 u con 1 derivato rispetto a 2 non è 0 ma viene meno x con 3 per teta e poi dobbiamo sommarci u con 2 derivato rispetto a 1 e u con 2 derivato rispetto a 1 viene x con 3 per teta e ovviamente la somma fa 0 quindi in realtà le uniche due componenti di deformazione non nulle sono queste due epsilon va bene? cioè la epsilon 1 3 e la 2 3 questa è 2 volte epsilon 1 3 e 2 volte E rappresenta, lo sappiamo, degli scorrimenti angolari e questi per comodità li chiamiamo gamma 1 e gamma 2 in maniera tale da poter definire un vettore gamma che appunto ha componenti gamma 1 e gamma 2 che altro non è che scusatemi, vedete le due componenti sono meno x con 2 e x con 1 e quindi qua c'è teta naturalmente meno x con 2 e x con 1 sarebbe l'x ortogonale x ortogonale per teta beh, una volta che abbiamo le deformazioni possiamo calcolare le tensioni e le tensioni aspettate, facciamo così scusatevi io organizzo la lavagna qui perché metto questo gamma qui sotto gamma è uguale a gamma 1 e gamma 2 è uguale a teta per x contogonale ok, così ci abbiamo la lavagna più in ordine a questo punto una volta che abbiamo tutte le deformazioni possiamo calcolare tramite le gambe costitutive le tensioni ok, quindi tensioni tensioni e avremo che sigma 1 1 ovviamente dipende da y1, y2, y2, y3 sono tutte 0 quindi viene 0 ma poi lo sapevamo era la nostra concettura iniziale che sigma 1 1 doveva essere 0 sigma 2 2 ovviamente dipende da 1 1, 2 2 e 3 3 quindi è 0 e sigma 3 3 è 0 e ovviamente anche la sigma 1 2 viene 0 perché la gamma 1 2 è 0 quindi abbiamo che sigma 1 1 è uguale a sigma 2 2 è uguale a sigma 3 3 è uguale a sigma 1 2 è uguale a 0 che era quello che avevamo in qualche modo produrato dall'inizio bene, le uniche tensioni che ci sono divenute diverse da 0 sono quelle che volevamo eccole qua e quindi abbiamo sigma 1 3 è uguale a basta moltiplicare per il modulo g no? la gamma 1 la 2 volte y 1 3 e quindi abbiamo è uguale a meno g theta per x con 2 e sigma 2 3 2 3 è uguale a g theta per x con 2 queste due tensioni anche si possono organizzare in un vettore un vettore le cui componenti sono tau 1 e tau 2 perché qui tau ci ricorda le tensioni di attenziali bene? e questo vettore è appunto tau i componenti tau 1 e tau 2 altro non è che g theta per x ortogonale cioè è la gamma moltiplicato g semplicemente e g volte gamma ok? questo vettore di tensioni di attenziali ecco, una volta che abbiamo le tensioni che dobbiamo fare? dobbiamo verificare se sono soddisfatte le equazioni di equilibrio bene? equazioni di equilibrio del solido e poi tutte le opportune commissioni al contorno d'accordo? quindi equilibrio la metto qua sotto così ho un po' meno spazio allora l'equazione di equilibrio tenuto conto che tutte queste quantità sono diventate uguali a 0 diventano sigma 1 3 derivato rispetto a 3 uguale a 0 sigma 2 3 derivato rispetto a 3 uguale a 0 e poi sigma 1 3 derivato rispetto a 1 più sigma 2 3 derivato rispetto a 2 uguale a 0 perché sigma 3 3 è 0 va bene? diventano così queste sono le equazioni della divergenza di sigma vi ricordate? adesso abbiamo che 1 1 1 2 2 2 3 3 sono tutti 0 ok? allora è molto facile verificare queste equazioni vediamo perché? perché sigma 1 3 derivato rispetto a 3 bene la sigma 1 3 è data questa espressione se faccio la derivata rispetto a 3 vedete? io l'ho pensato che questo teta è una funzione lineare di x con 3 e che appunto era dato da x con 3 per teta grande in cui teta grande non dipendeva più da x con 3 va bene? no l'ho immaginato che devono essere così facendo il discorso dell'elementino di trave che doveva avere lo stesso angolo di rotazione delta teta qualsiasi sia l'elemento di trave però qua ci viene la conferma no? qui ci viene la conferma che tutto questo non deve dipendere da x con 3 quindi in particolare la teta grande non dipende da x con 3 la derivata della teta della teta piccola e quindi questa è soddisfatta naturalmente la seconda equazione ci dice sostanzialmente la stessa cosa che la teta grande non deve dipendere da x con 3 e quindi anche questa è soddisfatta andiamo nella terza equazione e facciamo la derivata di sigma 1 3 derivato rispetto a 1 ma sigma 1 3 non dipende da x con 1 quindi è 0 e poi dobbiamo fare la derivata di sigma 2 3 derivato rispetto a 2 ma sigma 2 3 non dipende da x con 2 e quindi la derivata è 0 quindi anche questa è soddisfatta quindi le equazioni diciamo di campo di equilibrio sono soddisfatte va bene? sono soddisfatte adesso dobbiamo vedere le condizioni al contorno cominciamo da quelle sul mantello mantello va bene? allora le equazioni al contorno sul mantello le abbiamo già viste varie volte come diventavano quando si ponevano queste quantità uguali a 0 rimaneva solo l'ultima equazione e l'ultima equazione ci dediceva a questo sigma 1 3 n 1 più sigma 2 3 n 2 che è uguale a 0 ovviamente sul mantello cioè su dA cioè la frontiera della generazione bene? ci siamo? in altri termini se volete possiamo fare un disegnino questa è la sezione va bene? sto sul mantello quindi prendo un punto che sta sul mantello va bene? prendo la normale al mantello questa è la normale al mantello M ok? e ho la tensione tendenziale che è questo vettore qui che ha queste due componenti che sono esattamente sigma 1 3 e sigma 2 3 beh, quello che vi dice questa equazione è che deve accadere che questi due vettori talo ed n devono essere fra di loro ortocolati cioè questa equazione si può scrivere diciamo come talo scalare n uguale a 0 è ovviamente la stessa cosa bene? perché tau è il vettore di componente tau 1, tau 2 cioè sigma 1 3 e sigma 2 3 e n è ovviamente un vettore di 1 e 2 e beh, è facile vedere che questa condizione è soddisfatta perché? perché nel caso della sezione circolare la sezione circolare la n non è che la x diviso la sua norma vedete? è la x questo è x diviso la sua norma e poiché la tau è uguale a g theta per x ortogonale ovviamente abbiamo tau che sarebbe g theta x ortogonale ho scritto tau va bene? poi devo scrivere scalare n n è uguale a x diviso la sua norma ed ovviamente x ortogonale per x essendo due vettori fra di loro ortogonali hanno potuto scalare l'unione e quindi questa condizione è soddisfatta quindi anche questa condizione possiamo scrivere ok è soddisfatta vediamo che cosa succede nella sezione agonelle la condizione diciamo di azione sulla base terminale e latrale deve accadere che n sia uguale a 0 ma n è l'integrale di sigma 33 sta scritto qua ma le sigma 33 sono tutte nulle e quindi questa sicuramente è soddisfatta scusatemi questa la scrivo qui questa è ok è già soddisfatta perché sigma 33 è 0 dappertutto bene? e l'altra che è soddisfatta è automaticamente anche questa quindi anche questa è ok è automaticamente soddisfatta adesso dobbiamo verificare che anche v sia uguale a 0 va bene? e poi dobbiamo imporre che il momento risultante delle lezioni sia uguale al momento torcente che abbiamo applicato noi nella sezione chiaro? quindi dobbiamo verificare che anche questa sia soddisfatta è semplice anche questa è semplice è semplice per esempio io ho preso p con 1 che è l'integrale su A delle sigma 1 3 in de A ma le sigma 1 3 sono date da questa espressione qua vedete? quindi è uguale a meno g dita integrale sull'area di x con 2 dA e ovviamente l'integrale sull'area dell'x con 2 dA non è altro che il momento statico e ovviamente il sistema di riferimento abbiamo il baricentrico è 0 e quindi è 0 g con 2 subisce esattamente la stessa fine perché facciamo l'integrale sull'area dell'esittimo 2 3 più dA e questo è uguale all'integrale di g dita g dita integrale se facciamo così di x con 1 dA e ovviamente è 0 quindi anche queste sono soddisfatte anche questa condizione qua ci possiamo mettere un ok e soddisfatto 2 minuti abbiamo finito facciamo l'ultima formula se non ce l'è bene allora dobbiamo fare questa iniziamo? allora il momento torcente vi prendo un po' di spazio il momento torcente è uguale vi riscrivo questa formoletta qua basta solo lo scrivere l'integrale su A di x con 1 sigma 2 3 meno x con 2 sigma 1 3 in dA bene? ci siamo? e questa che cosa è uguale? è uguale all'integrale sull'area di x con 1 che moltiplica allora sigma 2 3 beh sigma 2 3 ce l'abbiamo qua è g theta per x con 1 quindi avrò un x con 1 al quadrato per g theta g theta scusate mi sta anche nella sigma 1 3 quindi lo metto tutto alla fine ok? meno x con 2 per sigma 1 3 allora ma la sigma 1 3 è meno x con 2 per g theta vedete? e quindi la c'è un meno qua c'è un altro meno viene più eh? x con 1 quadrato più x con 2 quadrato integrato sull'area tutto quanto moltiplicato g theta trovate? eh? bene questo sarebbe come dire la somma dell'integrale lungo 1 più l'integrale lungo 2 ovviamente siamo in una in una sezione circolare quindi l'integrale lungo 1 e lungo 2 sono uguali perché essendo circolare tutti gli integrali sono uguali e in realtà altro che due volte l'integrale rispetto a 1 rispetto a 2 è la stessa cosa ma l'integrale di questa cosa viene chiamata il momento di inerzia polare e e e qua via g theta di contino questo è il momento di inerzia polare allora ricordatevi il momento torcente è il dato esterno che stiamo assegnando noi è il valore che noi assegniamo bene l'incognita in questa equazione è la theta perché g è il modulo elastico a taglio del materiale va bene l'i con p è infatti puramente geometrico dipende dalla ragione della sezione va bene quindi da questa equazione potete ricavare theta va bene noto che sia theta ovviamente potete un po' ritornare indietro e potete dire va bene allora il campo di spostamenti vale perché sapete quanto vale perché sapete quanto vale theta perché è il momento torcente applicato diviso il gico p è una quantità nota oramai quindi sapete gli spostamenti sapete come si sta spostando come si stanno spostando i punti di questa trave ancora sapete quali sono le deformazioni perché oramai theta è noto sapete le lezioni perché theta è nota e avete soddisfatto in questo modo tutte le equazioni del problema ne conseguite questa è la soluzione esalta del problema tridimensionale della torsione della trama e quella che noi avevamo immaginato essere un'ipotesi iniziale di futuro in realtà non è un'ipotesi ma è parte della soluzione è parte della soluzione e anche l'idea che questa la cinematica fosse governata dal fatto che la sezione ruotassero l'una rispetto all'altra è una idea buona perché la soluzione è fatta esattamente così questa è la soluzione quindi come vedete la soluzione di una trave a sezioni circolari soggetta a torsione è molto semplice direi che come tipo di espressione come tipo di procedura è anche molto molto lineare perché voglio dire partiamo da l'idea di come sono fatti gli spostamenti vedete il metodo semi-inverso un'idea di come sono fatti ma non sappiamo quanto vale deta sono le equazioni che ci decideranno alla fine quanto vale effettivamente deta d'accordo? quindi partiamo dagli spostamenti e poi è tutta assolutamente completamente in discesa perché dagli spostamenti è facile calcolare le deformazioni vi ricordo come abbiamo fatto invece nella flessione la flessione e la cosa era molto più complicata se vogliamo perché erano partiti dalle tensioni e quindi dalle deformazioni abbiamo dovuto integrare le equazioni delle deformazioni per trovare gli spostamenti era molto più noioso diciamo molto più complicato invece qua siamo partiti in discesa sappiamo gli spostamenti deriviamo e troviamo le deformazioni note le deformazioni cioè in termini legame costituzionale abbiamo le tensioni note le tensioni possiamo vedere se riusciamo a soddisfare le equazioni di equilibrio che abbiamo soddisfatte nel campo sul mantello cioè sul bordo mantello e in particolare poi anche sulla base agonella e l'equazione l'ultima equazione quella là che ci diceva il momento torcente a quanto è uguale l'espressione del momento torcente ci permetteva di risolvere completamente il problema facendoci determinare il valore di teta l'angolo unitario del suo e quando vi sectionsi non preparando a in